Sì! Cazzo! Oh, fermo! Ok, puoi andare all'intondo così, beh, certo! Così? Così! vado avanti guarda guarda si è ripreso così guarda guarda piccolino fermo fai i piedi in solito di fermo eh in contro faccio vedere il suo aspetto eh piccolino poi il bravo non sta lento non sta lento aspetta che venga così si non fermo si non fermo che tiro è? 30? si 30 lì guarda 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 si salteva fuori guardate lì c'è mi ricordo? si entra appena appena cos'è? no è così è così è così da volte si sarebbe salta fuori anzi quando sta venendo sotto continua a fare E' una piccola macchina. E' una piccola macchina. È una piccola macchina. stop andiamo a fregare stop faccio l'organizzazione stop dentro tutta dentro no 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 hai filmato a me c'è il filmato ma me c'è il filmato in funzione Allora, vai avanti, a ore 3, con tutti e due. Ok, bravo, adesso. Sì, vedi un po' di me. Bravo, perfetto, così. Senta, eh, mi chiudo qui? No. Sì, sentiamo a cadere, Marina. Non mi piaci se tu salis. Mamma, allora. Avanti, 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 avanti. Avanti, Peppe, avanti. Eccola, stupendo Marina, guardala. Enorme, enorme. Ma è stupendo. Sì, sono tutte e due. Bellissima. E' lì. Ricchis, dai motori è meglio. Ah, ma è una tassi sopra. No. E' desfruttata. È grossa, è grossa. No, 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 è vero. Vai, vai. Marina, mi fai scendere. Marina, vieni qui. Vengo. Fa il telefono. Ma fai le foto. Sì, ma... Sì, ma... Sì, ma... Si, ma... E' vero. Che bottoni? Fai e per ti sono così. Fai le cose. Giovanni. Avanti con tutte e due. Avanti con tutte e due. avanti, avanti, dai chiamati, dai chiamati, ok una buia per lì avanti 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 piano eh avanti 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 Passi bene! pushing it lì? dei fuggito dissi Mamma la cattura